Wolf, ma non avevo idea di dove si nascondesse. Sapevo che i russi avevano un posto di comando delle operazioni speciali a Berlino Est. Forse lui era in contatto con loro. Mi sono preparato e sono partito, seguendo il suono delle guerriglie e del fuoco dei carri armati. Si trattava del posto più pericoloso in cui potessi capitare, ma avevo bisogno di risposte e questo era l'unico modo per averle. Grazie a tutti.